Buongiorno amici italiani, questa è la lezione numero 29, Massimi numer gnesetennant. Se vi piacciono i miei video, per favore fate subscribe sul mio canale ViolaGJ e così avrete tanti altri video dalla lingua italiana in quella albanese. Ovviamente gratis. Në kësime do të mësoni frutat dhe primet në gjuhën Shqipë. La fruta La ciliegia Cershia Cershia Il kiwi Kiwi Il limone 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 L'uva Rusi Rusi Il melagrano Cega 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 Languria Cialcini 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 Il melone Piepri Piepri Il fiko Fiku 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 Le verdure Perimet 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 La carota 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 Il pomodoro Domatia 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 La melanzana Patolgiani 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 La cipolla Cepa Cepa L'aglio Hudhra Hudhra Il prezzemolo Maidenosi Maidenosi La patata Patatia Patatia Vediamo alcune domande Cosa vuoi comprare? Cfar do tu blesh Cfar do tu blesh Voglio comprare un chilo di pomodori Per esempio 2 të ble 1 kg Domate Potete usare la stesa forma Con le altre verdure Oppure con la frutta Voglio comprare 2 kg di fragole 2 të ble 2 kg lulleshtryde 2 të ble 2 kg lulleshtryde Voglio comprare un chilo di pomodori 2 të ble 1 kg domate 2 të ble E 2 kg domate Quindi vedete E' la stessa forma Come chiedere Quanto costa? Quanto costa un chilo di aranje? Sa custon Ne chile portocali? Sa custon Ne chile portocali? Potete usare la stessa forma con altre verdure oppure frutta Quanto costa? Sa custon E qui vedete il verbo comprare in albanese Blej 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 Io compro? Tu compri, lui lei compra Noi compriamo, voi comprate, loro comprano In albanese Un blej Ti blen Ai ajo blen Ne blejm Ju blini Atato Blen Ripeto Per series Un blej Ti blen Ai ajo blen Ne blejm Ju blini Atato Blen Potete usare Potete usare questa forma Con la verdura oppure la frutta Per esempio Un blej 2 chile domate Ai Blen 3 chile portocali Ne blejm 5 chile Lulleshtrydhe Ju bleni 6 chile Karota Ata Ata Blejn 10 chile Mandarina Ad esempio Për shembol E tu Koza voj komprare Ogji Po ti Qfar do të blejsh sat Se volete mandatemi Le vostre risposte Oppure le vostre domande Valiminderit Grazie